Un grande artista per un grande evento, quello di Antonello Venditti, sabato scorso a Raguse, è stato un concerto che molti ricorderanno a lungo, con ben 2200 presenze, oltre alla grande soddisfazione ovviamente agli organizzatori. Tutti hanno così potuto godere la performance del cantatore romano, andato avanti per circa due ore e mezzo e caratterizzata da un racconto intimo sin dalla prima canzone eseguita, sotto il segno dei pesci, e facendo da subito scatterare la folla dei supporters. Una straordinaria serata quindi di musica, è qui assistito anche una forte delegazione di spettatori provenienti da Malta. Un concerto di grande spessore, hanno sottolineato al termine da Palazzo di Città, e la dimostrazione di come Ragusa, ma più in genere i principali centi della Riblea, sia la cornice ideale per appuntamenti di così grande richiamo. Uno spettacolo quindi veramente superiore a qualsiasi tipo di aspettativa e del resto venditti, ha rimarcato l'assessore Massimo Iannucci, è un artista che non si discute. Abbiamo anche fatto in modo che tutto potesse rivolgersi al meglio, e il personale comunale è stato sempre all'altezza della situazione.